forza ragazzi bentornati bentornati oggi parliamo di parma fiorentina il giorno dopo dopo la grande vittoria della fiorentina 2 a 1 in quella del tardini una bella prestazione da parte della fiorentina anche se ci sono ancora alcune lacune soprattutto la davanti perché segniamo sì due gol ma li segniamo su calcio e rigore grazie a eric pulgar che si conferma ancora essere cecchino dal dischetto anche il gol del parma è stato segnato sul calcio di rigore oggi su vari giornali sono usciti insomma l'arbitro ha preso un voto 5 globale perché comunque se il primo rigore è netto come ho detto anche ieri in video chat live commento dove eravamo in tanti vi ringrazio da subito gli altri due rigori sono un po dubbi sia il rigore concesso il secondo penalty alla fiorentina per fallo di mano sul colpo di testa di pezzella e anche il fallo concesso proprio colpa di pezzella che va a tirare una gomitata cucca e quindi gli ultimi due rigori sono un po dubbi anche per vari quotidiani sportivi naturalmente ragazzi vi invito se lo avete già fatto a iscrivervi al mio canale youtube a condividere i video a mettere tanti like seguitemi anche su instagram e però c'è da analizzare anche la partita beh la fiorentina ieri i primi 45 minuti li ha meritati tutti ha giocato molto bene è stata una partita molto maschia la fiorentina corso raddoppiava grande immenso liberi e soprattutto buone le prestazioni di venuti che ci ha un po sorpreso tutti quanti dalla sua titolarità però ha giocato veramente un grandissimo primo tempo e anche terracciano non ha per niente sfigurato salvando il risultato proprio all'ultimo sul tiro da fuori aria del parma che avrebbe potuto fare il 2 a 2 veramente a un minuto dal termine quando proprio la fiorentina nell'arco del secondo tempo aveva già sprecato 3 barra 4 occasioni proprio da gol per chiudere definitivamente il 3 a 1 quindi sicuramente siamo contenti del risultato del 2 a 1 la fiorentina vince prende 3 punti si smuove la classifica però non possiamo essere contenti per come si sta comportando l'attacco perché la fiorentina ancora non riesce a segnare su movimento su azione ma soltanto su palle inattive da registrare poi anche la paura per quanto riguarda benassi che comunque ieri ha preso in vari quotidiani 5 5 e mezzo onestamente io non ho visto una prestazione negativa di benassi comunque è uscito zoppicando si teme che la sua stagione sia finita qui e paura anche per liberi se su liberi a livello condizioni fisiche non sembra allarmare più di tanto lo staff medico viola purtroppo c'è da registrare una cosa bruttissima e oscena cioè che nella sua abitazione a bagnarripoli liberi tornata a casa dopo la grande vittoria con la fiorentina contro il parma si è ritrovato la casa svaliggiata naturalmente ha postato il video sui vari social ha anche lasciato un commento dicendo che non è tanto il fatto di essere stati derubati a livello di soldi e quant'altro è proprio il livello di essere vulnerabili e queste sono cose sono cose brutte onestamente che nessuno nessuno di noi vorrebbe vorrebbe vivere e sinceramente pensare che il liberi possa anche soltanto decidere di prendere andarsene via perché si sente vulnerabile perché poi conclude il messaggio dicendo poi penserò a farsi per il bene della mia famiglia questo naturalmente non non ci fa sorridere quindi un grande in bocca al lupo abbenarsi per il recupero dell'infortuno e sicuramente un abbraccio a riberia tutta la sua famiglia per il furto e la paura comunque l'angoscia che ti viene dopo essere stati rapinati in casa su il mercato e sull'allenatore continuano le voci di daniele derossi commesso ieri ha messo comunque un veto dicendo che comunque decisione finale sarà sua daniele derossi sembra sponsorizzato da predè che sembra aver convinto barone nel scegliere l'ex giallorosso l'ex bocca junior a centrocampo perché predè l'ha sempre visto come un giocatore allenatore in campo e quindi vorrebbe provare questa nuova esperienza io non sono molto d'accordo nel prendere daniele derossi credo che a firenze ci voglia sicuramente un calcio mercato importante fatto di grandi nomi di grande personalità e di grandi calciatori ma sia fatto anche da un grande allenatore che deve saper subito dare forma gioco deve plasmare la sua rosa per essere una fiorentina vincente ragazzi come sempre vi rinvito a iscrivervi al mio canale a seguirmi su instagram ci vediamo fra qualche giorno nel prossimo video che pubblicherò naturalmente per quanto riguarda fiorentina a cagliari prossimo appuntamento che vedrà impegnata la viola e vi dico già da adesso che ci sarà ancora una volta la mia live il mio commento live sia su instagram che su youtube quindi attivate la campanella qui e tra qualche giorno attivate anche il countdown su instagram per non perdere l'appuntamento ragazzi come sempre fiorentina vince a parma 2 a 1 respiriamo meno più più 9 dalla zona retrocessione e io dico così meno 11 da un è possibile a proto in europa link ciao ragazzi e forza viola